Come? Dico me le mette in conto perché devo fare un altro telegramma. Ah, un altro telegramma? Un altro telegramma? Ma perché non si può fare un altro telegramma? Al che sì! E lei stia zitta! No, no, lasci stare! E perché si arrabbia! Io mi gioco le ferie allora qui! Mi sembro un marziale! Allora io non vado in ferie con l'altro telegramma! E vabbè, facciamo un altro telegramma! Scusi il ragioniere! Ragioniere, ragioniere! Dove va? Dove va? Al cinema, gliel'ho detto! No, dove va? L'altro telegramma! Dove va? Ah, Trapani! 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 Destinatario? Trapani! Scusi, io non mi voglio arrabbiare perché è caro! Io ho detto dove va e lei Trapani! Trapani! Ora dico destinatario! Trapani! Tutte e due! Tutte e due Trapani! Trapani, località! Chi lo riceve? Signor Trapani! E si spieghi meglio allora! Ecco! Trapani, Trapani! Signor Trapani! Trapani! E allora! Trapani! Trapani! Dunque allora Trapani, Trapani! Che sarebbe quello che lo riceve? Ho capito! Ecco! Trapani, Trapani! Poi! Trapani! Un'altra volta! Un'altra volta! Trapani un'altra volta! Trapani, Trapani, Trapani! Senti! Mi scusi! Lei mi deve spiegare che razza di telegramma è questa! Trapani, Trapani, Trapani! Che significa? Io glielo spiego subito! Trapani, Trapani, Trapani! Trapani! Allora! Trapani, località! Ci siamo! Trapani il signore che lo riceve che è un dentista! Ah, è un dentista! E che io autorizzo a trapanare! Quindi, Trapani, Trapani, Trapani! Mi sono spiegato! Sì! Ecco! Lo scrivo! Trapani, Trapani! Trapani, Trapani, Trapani! 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 Siracusa! Siracusa! Che centro adesso Siracusa? E Siracusa è mio zio! E che significa? Adesso glielo spiego! Trapani, località! Trapani il dentista! Io che l'autorizzo a trapanare un molare a mio zio che si chiama Siracusa! Quindi, Trapani, 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 Siracusa! Oh! Pangeriere, eh! Vada! Va bene, bravo! Scusami! Trapani, 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 Siracusa! Messina! Eh, no! Messina, no! Messina! E Messina! No, no! Lei non ce lo scrive! No, io Messina non lo scrivo! No, Messina, sono io! Non mi interessa! Io non posso spedire un telegramma che non si sa che l'ho spedito io! E sta forte, ma io... Lei deve stare, Trapani! No, io... Guardi, ma io... Guardi, ma io... Guardi, ma io... E lei... E lei non... Non si è messina! Guardi, ma io... Guardi, ma io...